Preggiatissimo signor Presidente, in questo particolare momento di crisi economica riteniamo importante che anche la provincia di Barletta-Andreatrani, da lei rappresentata, dia un ulteriore chiaro segno di vicinanza ai problemi dei cittadini contribuenti di questo territorio. Come noto con provvedimento 50 del 14 settembre 2015, l'ente provincia ha elevato dal 4 al 5% il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, la cosiddetta addizionale proprietari, pur comprendendo le difficoltà finanziarie dell'ente provincia a causa dei continui tagli operati dal Governo centrale, le chiediamo formalmente, nell'ottica dello spirito di collaborazione sancito dal procollo d'intesa sottoscritto tra la provincia BAT e la scrivente Confederazione, di ridurre il precipitato tributo provinciale, revocando l'aumento disposto con il richiamato provvedimento dello scorso settembre. E' Michele De Marinis, presidente del CNA BAT, con una lettera aperta a rivolgersi al presidente della provincia di Barletta, Andriatrani, Francesco Spina, per chiedere un dietrofronto sull'aumento dell'imposizione fiscale provinciale. Immediata la replica del presidente della provincia. Voglio anzitutto precisare, ha detto Spina, che l'aumento della Tari, seppur in bassissima percentuale, si è reso necessario per poter accedere ad un contributo statale erogato di circa 800 mila euro in favore della nostra provincia. E' nota a tutti, e la stessa CNA ne ha dato atto, la condizione complessa delle province italiane che da una parte subiscono continui tagli ai trasferimenti, dall'altra, increscendo, sono chiamate a concorrere finanziariamente con risorse proprie alla finanza pubblica. L'aumento della Tari ha continuato Spina incide pochissimo sulle tasche dei contribuenti, poco più di un euro per ogni abitante della nostra provincia. In questo modo, potendo beneficiare di quel contributo statale di circa 800 mila euro, siamo riusciti a recuperare le risorse economiche necessarie per coprire il servizio di assistenza socioeducativa in favore degli studenti diversamente abili, audiolesi e videolesi che frequentano le nostre scuole. Il presidente Spina ha così concluso. La provincia di Barletta-Andreatrani è tra le poche in Italia ad essere miracolosamente riuscita nell'impresa di chiudere in pareggio il proprio bilancio, rispettando con ogni probabilità il patto di stabilità. Tra qualche giorno ci sarà il report definitivo, evitando così pericolosi disavanzi o, peggio ancora, un dissesto finanziario che avrebbe prodotto conseguenze ben più onerose sulle famiglie e soprattutto sulle piccole imprese a cui probabilmente fa riferimento il CNA della BAT.